Sono i sapori della tradizione in Toscana i protagonisti dell'undicesima edizione della Sagra della Tagliata di Castiglion Fibocchi, organizzata dall'Unione Sportiva Dilettantistica Castiglion Fibocchi. Per tre settimane, fino al 2 luglio, quindi, spazio alle specialità gastronomiche del territorio, ma anche alla musica e al divertimento. I protagonisti del primo fine settimana sono stati i motori d'epoca, con il raduno delle auto e moto storiche. La carovana d'epoca ha fatto poi tappa all'interno della splendida villa Monsignolo, che ha aperto le sue porte in anteprima ai partecipanti dopo il restauro. Il prossimo fine settimana sarà invece il turno del mercatino dei ragazzi dell'associazione Neuroblastoma e del motoraduno Il Girarrosto. Sabato 1 luglio, invece, appuntamento con la Corridas, presentata da Claudio Lippi in onore di Corrado. Da non perdere domenica 2 giugno la rievocazione storica dell'antica battitura del grano, con il motore a fuoco a testa calda, ed il pranzo tradizionale della battitura contadina.